Ciao ragazzi, finalmente ho conosciuto il vero mito, il grande mito Kiko Forti. Adesso ve lo racconto step by step. Sono appena rientrato da Budapest e ho detto devo assolutamente fare un video e raccontarvi la mia esperienza. Oramai sono tre anni che ci dedichiamo tutti a Kiko, chi più chi meno. Io veramente avevo voglia di incontrarlo, di veramente di abbracciarlo, di guardarlo, di vederlo, di capire un po' più da vicino la sua storia. L'ho incontrato finalmente sabato 21, cioè 21 gennaio. Sono stato una settimana a Miami per aver l'incontro, mi hanno analizzato il passaporto, hanno visto, la polizia ha visto più o meno tutto quello che era il mio background per capire se era il caso o no di farmi entrare nel penitenziario. Dovete sapere che è molto selettivo, non fanno entrare tutti e soprattutto c'è una giornata particolare. A me grazie al nostro amico Roberto, un grandissimo amico di Kiko, una persona fantastica che ha abbracciato questa maledetta storia. Dico maledetta perché è maledetta. Devo dire che Roberto è l'angelo custode di Kiko a Miami, insieme a tanti altri. A Marco dello Zoo, che anche lì a Miami, anche lui, quando l'ho chiamato, io ho chiamato prima Marco, lui mi ha messo in contatto con Roberto, ho detto lui ti farà vedere Kiko. E tante altre persone qua dall'Italia, tante celebrità, come sapete, Andrea Boccelli, Veronica, che vanno spesso, andranno adesso anche loro a febbraio, Gio Squillo, e ce ne sono tanti. E anche tante persone, non celebrità, che da casa fate tanto, come la mia amica Mara, che mi ha messo lì in contatto con tante persone, con lo zio Gianni. E vabbè, sappiamo che ce ne sono tanti, ma io vi sto facendo questo video perché dobbiamo essere in tantissimi, anzi di più di tantissimi. E vi dico perché, ok? E ritorniamo a sabato. Sono arrivato la mattina alle 9, 9 e mezza, la polizia dopo 20 minuti, mezz'ora, ci fa entrare. Due controlli. Il primo dei documenti è già, più o meno, ci fanno uscire tutto quello che avevamo, quindi telefoni, soldi, tutto out, orologio, qualsiasi cosa potesse nascondere qualcosa, out. Successivamente un'altra stanza per il controllo nudi tavolo. Volevano vedere se c'è lavoro veramente grosso, come dicono, o no. No, scherzo. Volevano vedermi, ma hanno visto anche lì. E sì, perché, ragazzi, io non so in Italia come funziona, ma lì funziona così. Ti guardano dappertutto. Perché sono molto, molto attenti. Ragazzi, un vero penitenziario, come quelli che si vedono nei film. Poliziotti ovunque che girano, con i mitra, con fucili, con pistole. È veramente un cazzo di carcere, ve l'assicuro. Facevo abbastanza impressione. Successivamente siamo dentro. Vedo Kiko seduto attraverso la porta, che guarda davanti a sé. Vedo altri detenuti che parlano con i familiari. Ragazzi, apro la porta. Mito! Kiko mi guarda, luccica, mi abbraccia, ci abbracciamo. Devo dire che è stata un'emozione. A parte che ha il primo impatto. Cazzo, ma che bestia che sei. Muscoli sulle braccia, sul cuo. Cioè, fisico. Tu cazzo, ma stai bene? Ma t'alleni, cioè la prima cosa che mi rimette, t'alleni. E lui mi dice, Rocco, per forza, per forza, bisogna stare in forma. Ma anche tu stai in forma e mi fa. Poi abbraccia mia moglie e mi dice, pazzesca, bellissima. E mi sembra di conoscervi da una vita. Di solito questo me lo dicono i fan con la quale ho passato molto tempo io con loro attraverso un DVD, un tape o adesso internet. Però lui me l'ha detto così. Non dimentichiamoci che in carcere non c'hanno né DVD in quello americano. Non c'hanno nessun tipo di possibilità di accedere con l'esterno. Zero. E quindi mi dico, ma quando? Mi dice, Rocco, la sensazione ti guardo ed è così. Lo stesso per me. Perché abbiamo tante cose in comune. Io mi sono affezionato a Chico molti anni prima, già quando l'ho visto per la prima volta nello show di Mike Bongiorno, se non mi sbaglio, e la scommettiamo che, in cui vinse questo campione di vela che arriva e indovina tutto quello che gli chiedono. Ma chi cazzo è questo qua, dico? E poi lo stesso campione me lo ritrovo in America arrestato per omicidio. Io ho detto, ma non è quello di Mike Bongiorno. Fanno vedere le immagini, era proprio lui. Ma non è possibile. Poi vedo che ha una moglie, tre figli, c'è qualcosa che non va. Ho avuto molta... Cioè mi sono detto, ma non è possibile. Ma figurati, si sono sbagliati. Fra qualche mese decade tutto, uomo libero. Invece, come tanti di voi, grazie alle Iene, mi rendo conto che, qualche anno fa, lui era ancora lì, non è mai andato a casa. Io ho fatto una vita, ho visto crescere i miei figli, lui invece era lì, sempre rimasto lì. Ed è lì che mi sono appassionato, e molto appassionato a Chico, e l'ho voluto conoscere. Ora ritorniamo all'incontro. L'abbraccio, ci sediamo, face to face, come altri detenuti parlavano con i familiari. Chico parte, parte e comincia a raccontarmi, a raccontarmi, a raccontarmi. Io l'ascolto. Siamo stati cinque ore e mezza. Su cinque ore e mezza ha parlato cinque ore. Cinque ore. Non finiva mai. Un'energia pazzesca. Una forza di volontà. Di raccontare e di spiegare. Io non gli ho chiesto nulla. Era proprio un fiume. Però tutto era collegato. Tutto aveva un perché. A un certo punto, per portarlo fuori da questo racconto, che non potrò dirvi, vi dirò alcune cose, ma non posso raccontarvi tutto, perché ci sono delle situazioni molto, molto, molto difficili da raccontare, per la quale Chico rischia. Perché Chico rischia, come è successo l'anno scorso, un ministro, voi lo sapete chi era, ha annunciato sulle news, finalmente Chico torna a casa. E da quel momento in poi Chico ha avuto il doppio dei problemi. Perché? Perché il ministro aveva. Forse era riuscito, nessuno lo sa. Si doveva fare i cazzi suoi, più che fare la news sul Tg per prendersi i consensi. Apparentemente è successo questo. L'unico consenso che Chico ha preso è che le hanno cambiato il carcere. Da un carcere dove stava con un detenuto in stanza, l'hanno messo in una stanza con 40 detenuti. E quindi io ho detto, ma non mi dire, mi fa sirocco, però non ti preoccupare, sto meglio perché rischiavo più la vita nell'altro che dove sto adesso. Ma in che senso? Sì, perché qui sono in mezzo a delle gang sudamericani e neri. Però sono rispettato, mi proteggono. Cioè, non avete capito, Chico ha rischiato di essere ammazzato più volte, però si è sempre dimostrato per quello che è una persona leale che non ha paura perché non ha commesso nulla di tutto ciò e combatte per la vita con tantissima dignità. Ecco, questa è una parola che porta... Cioè, questa è la... Identificare Chico per me è sotto la parola della dignità, perché non lo vedrai mai lamentarsi, mai piegarsi su se stesso per cercare di farti pietà. Lo vedrai sempre dritto, uomo, con gli occhi che ti guardano direttamente dentro gli occhi tuoi. Questi occhi che non sono occhi normali, sono occhi molto, molto, molto profondi, molto sofferenti perché si vede la sofferenza, ma molto profondi. Non sono quello sguardo che va, che viene, che è vuoto a metà o intenso. No, sono occhi che ti entrano e non ti mollano, non ti mollano un attimo, con tantissima dignità. Questo è quello che io per cinque ore a volte ero in imbarazzo perché mi sono detto, cazzo, io vengo da fuori, vengo a vederlo e lui sembra che mi sta rassicurando a me. Sì, ogni tanto mi sentivo una merda perché ho detto, ma che ho fatto io per lui? Che sto facendo io per lui? Lui mi ringrazia per dirmi, ecco, grazie per essere venuto qui, grazie per aver fatto... Che cazzo ho fatto? Ho fatto un paio di video, mi sono messo lì, ma che ho fatto? E lui mi dice, Rocco, ci sono due cose nella vita che per me sono importanti, è viverla e mai smettere di sognare. Lì mi ha dato una grande lezione perché, ragazzi, quello che vive Chico da 23 anni è surreale. Sapete la parola? Non lo auguro a nessuno, ecco, no. Ma di più perché Chico è una persona di successo, intelligente, sensibile, colto. Diciamo perdere cultura oramai, in 23 anni lì, mi direte, chi c'ha l'enciclopedia dove ha studiato? Chico è dalla mattina alla sera su qualcosa. Io non so come fa, ma se gli chiedete, Chico, che c'è qua? Uruguay, Paraguay, chiudeteli gli occhi, vi risponde, vi dice quanti abitanti, che popolazione, quali sono. Tutto. È surreale. Noi siamo stati in Namibia e ci ha cominciato a parlare della Namibia come se c'era stato tre giorni prima di noi. Cioè, è surreale. Surreale. La sopravvivenza è questa qua. Lui cerca di sopravvivere a tutto ciò. Dorme un'ora al giorno. Mentre tutti dormono, lui scrive. Lui sta facendo, ecco, sta facendo qualcosa. Non posso dirvi di più, perché rischia. Tutto quello che lui, tutto quello che noi diciamo, che io dico adesso, sarà ripreso, sarà tradotto e gli americani lo vedranno. Vedranno tutto. Quindi io so tante cose, mi ha detto tante, tante cose che non posso raccontarvi, però mi sono fatto un'idea. Non ho mai pensato che Kiko avessi, cioè non ho mai avuto un dubbio che Kiko fosse o non fosse un omicida, un assassino. Mai avuto. Perché non può. Non poteva. Qual è? Qual è il nesso? Una persona di successo, uno sportivo, super competitivo, vinceva tutto, qualsiasi cosa fa, gli riesce. moglie, tre figli, famiglia che adora, imprenditore di successo, che cazzo gliene frega a lui di andare a ammazzare uno per rovinarsi la vita? Ammazzare il figlio della persona la quale doveva comprare o addirittura ha già comprato l'albergo? È scemo? Ma è talmente intelligente che questo è impossibile. È proprio dimentica. Poi quando l'ho conosciuto mi sono detto ecco, avevo ragione, è di più, è cento volte di più di quello che mi ero messo in testa io. C'è un'idea di Kiko forti? No, no. È cento volte di più. Allora, perché lì? una serie di sfighe, non solo, il suo carattere. Questo è quello che penso io. Il suo carattere. Mai smettere di sognare, vivere la vita con intensità. Questa roba qua se andate da un coach e vi ripete solo questo, tutta la vita. Vivete la vita, mai smettere di sognare. Pensate che solo quest'anno in Italia nelle carceri italiane si sono suicidate più di 20 persone. 20-25 persone. tutti gli anni è lo stesso numero più o meno. Vivere la vita. 23 anni nel carcere americano. In quanti ce l'avrebbero fatta? È l'uomo con i coglioni più grandi che ho visto in vita mia. L'uomo più forte in assoluto. Uno che perde tutto quello che di bello si è creato per niente. Semplicemente perché pesta i piedi alle persone sbagliate. Avete capito tutto. Non posso dirvi di più però lui ha peccato un po' di ingenuità neanche. Non se l'aspettava che facendo quello che ha fatto e non stiamo parlando omicidio, stiamo parlando di un video, di una ripresa, cercare di vendere uno scoop per andare a fare uno scoop se lo sono inculato. Ma quanto se lo sono inculato? Mamma mia! Ragazzi, quello che vi racconto adesso è quello che ho visto con i miei occhi. un ragazzo che aveva tutto, 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 ma ha fatto incazzare la persona sbagliata, la persona sbagliata perché se no non si trovava dove era, carcere a vita senza possibilità di essere cambiata la sentenza. Mai, per sempre. A chi cazzo hanno mai dato un ergasto rosimile? Neanche in America. magari ti ammazzano, ma non che ti danno un carcere a vita dove la sentenza non la puoi più cambiare a meno che non arrivi una grazia. Cioè, è quasi più facile vincere un enalotto, una schedina, un fan, non lo so, non lo so. Cioè, quando uno ti dà questa condanna e poi, purtroppo, c'è qualcuno lì su che ancora, ancora insiste a rompere i carri, coglioni. Quindi, il motivo per cui vi racconto tutto ciò e non posso dirvi altro è che dobbiamo assolutamente essere di più. Abbiamo detto alcuni nomi di persone che stanno cercando di aiutare Kiko, dobbiamo essere di più. Se si organizzano dei sit-in, venite in più. Più ne siamo e più aiutiamo l'energia di Kiko a stare lì. Quest'uomo che sono esattamente i 23 anni che purtroppo c'è una donna di 96 che l'aspetta che torni a casa. Il papà non ce l'ha fatto. Il dolore era talmente enorme che non ce l'ha fatto. Adesso resta la mamma, lo zio, Gianni e tutti gli amici e le persone che lo stimano, le persone che sanno chi è Kiko Forti. Quindi quello che voglio dirvi veramente di cuore, ma di cuore non come faccio di solito lo spot, fidatevi di chi ne ha visto età, quelle cagate lì. No, fidatevi, Kiko è innocente, fidatevi, fidatevi. Kiko era solamente una persona che aveva tanta voglia di fare e ha avuto sfiga. La sfiga più sfiga che nella vita un uomo possa ricevere. Perdere tutto, incluso la famiglia. Tutto ci si riprende. La famiglia è dura, ragazzi. Quanto è tosta. Quanto è tosta. Può essere rinchiuso in un posto del genere. Io vi dico solo la parte del pranzo, ma non per... Cioè, abbiamo pranzato insieme, c'è uno spaccio, ci hanno detto pochi soldi, lui neanche li poteva toccare, non può toccare i soldi. Abbiamo preso... Cioè, sapete lo spaccio? Uno dice lo spaccio, supermercatino, piccolino, con tre cagate. No, di meno di quella roba là, ma molto, molto di meno con della roba insaccata che faceva... Ok, ok? Con grande dignità è la parola che ho imparato a utilizzare di più dopo che ho visto Kiko, su di lui, ha aperto quella roba lì come se fosse il pranzo di Natale o di Capodanno. Noi abbiamo mangiato con lui, era contentissimo di farmi quel caffè fatto da lui, ha mischiato delle cose perché l'acqua bollente non la possono usare, perché se la tirano addosso, è un'arma, e quindi ha dovuto... Io gli ho detto per sbaglio, ma il caffè non c'è, cercavo di annullare i sapori terrificanti che ho dovuto mangiare e per lui era Natale, aveva nel piatto quella roba come se era la roba più buona al mondo e sto stronzo, io, cosa gli dico? Ma un piatto di pasta anche scotto, ogni tanto, ma tu che sei italiano non lo potresti fare tu. Mi ha guardato come per dire, si è fatto quasi una risata e lì è entrato a gamba tesa Roberto che mi fa Rocco, lascia stare, tu non sai cosa danno da mangiare lì dentro. E lì ho detto, ma perché deve subire tutte queste ingiustizie? Perché? Perché? La domanda è, non vi dico di credermi, vi dico solo di fidarvi come mi sono fidato io prima di entrare, ho avuto certezze, va aiutato, va aiutato, va aiutato perché ha una grande dignità, un grande uomo e un cervello pazzesco, è pazzesco, è pazzesco a che livello lui riesce a modificarsi per sopravvivere a questa disgrazia. l'unico momento in cui l'ho visto almeno molto toccante è stato l'abbraccio quando l'ho salutato. Avete presente? Quando uno saluta qualcuno ci vediamo, ci rivediamo, ci vediamo qua, ci vediamo di là, non sapevo dove augurarci di vederci. Gli ho detto prima in Italia e poi a Budapest e poi a Budapest prima in Italia e poi a Budapest e poi l'ho guardato negli occhi se non subito ti vengo a trovare, ti ritorno a trovare, non lo so, voglio fidarmi di questa classe politica che torni a casa, voglio fidarmi di questa classe politica che entro quest'anno il prima possibile un miracolo ci vuole uno scambio importante perché c'è qualcuno lì giù che non gli sta assolutamente a cuore che è Chico torni in Italia. Ragazzi, mi ha detto tante cose e non posso dirvele, vengono ascoltate. Mi raccomando, il messaggio e fate, cioè, è come se, cerco di parlare come se fosse lui perché io ho capito che per Chico voi, voi, siete non importanti di più, siete l'energia che gli dà la forza. Ok ragazzi, teniamo duro per noi, così Chico tiene durissimo, tanto dove cazzo andiamo noi? È lui che tiene duro. Forza Chico, non mollare, noi ci siamo.